Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Secondo le anticipazioni del Grande Fratello dopo l'eliminazione di Mirko Brunetti avvenuta nella puntata di sabato scorso, un altro inquilino dovrà definitivamente abbandonare la casa più spiata di tali. Sono in cinque in nomination, Sara Ricci, Beatrice Luzzi, Perla Vattiero, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi. In testa abbiamo Beatrice Luzzi mentre in fondo alla classifica Sara Ricci e Grecia Colmenares. Sara Ricci 6%, Grecia Colmenares 8%, Vittorio Menozzi 14%, Beatrice Luzzi 45%, Perla Vattiero 27%. Le anticipazioni del Grande Fratello mostrano che i sondaggi per cogliere le intenzioni del pubblico in merito al televoto, fanno osservare come, alla momento attuale, la meno votata risulti essere Sara Ricci. L'attrice ottiene solo il 9% delle preferenze. Pochi voti in più per Grecia Colmenares. L'esito del televoto, stando a questo sondaggio, sembra alquanto incerto. Se le percentuali venissero confermate, sarebbe Sara la nuova eliminata del Grande Fratello.